E' l'Emanuele, E' l'Emanuele, E' l'Emanuele Carissimi amici, buonasera ma soprattutto auguri ai nostri papà, auguri a chi porta il nome Sando di Giuseppe. Oggi la Chiesa celebra il suo Santo Patrono San Giuseppe ed è stata l'occasione questa di celebrare in tutta Italia alle 9 il Santo Rosario. State sentendo suonare le campane delle nostre Chiese che ci ricordano la preghiera dentro le nostre case del Rosario. Perché? Perché San Giuseppe possa proteggere la nostra salute, la salute degli anziani, dei bambini, le nostre famiglie, la nostra città, l'Italia e tutto il mondo. Stiamo nella Cappella delle Suore, io vengo quotidianamente alle Suore quindi è come se fosse casa mia, non abbiamo problemi di distanze. Prima di adorare il Santissimo Sacramento, preghiamo il Rosario con l'Eucaristia presente nel Tabernacolo che ogni giorno benedice la nostra città. Verso le seme in un quarto sentite suonare le campane a festa della Chiesa Madre, il momento in cui esco con il Santissimo Sacramento e benedico ogni giorno la città perché il Signore la protegga. Ci raccogliamo in preghiera insieme a tutta la Chiesa italiana per recitare il Santo Rosario e adorare Gesù. Adoriamoci la Chiesa Madre, adoriamoci ad amore, tu del grande nostro spirito, Tu dell'uomo sei l'onore, adoriamoci ad amore, adoriamoci ad amore, adoriamoci ad amore. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, in secoli dei secoli anni. Siano dato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo Sacramento, glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, in secoli dei secoli anni. Signore ci rivolgiamo a te, da torre di bene, per impietrare la tua grazia su ciascuno di noi. Sulla nostra città, sull'Italia e sul mondo intero. Per l'intercessione di San Giuseppe, dona la salute al mondo intero. Allontala da noi il flagello della malattia e donaci di seguirti ogni giorno sulle strade del Vangelo. Primo mistero della luce. Il battesimo di Gesù nel Giordano. In quei giorni Gesù venne da Nazareth in Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come colomba. Si sentì una voce dal cielo. Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro Padre, il tuo regno, mettiamo la nostra figlia di viti, con il loro regno di piani e i nostri figli di Dio. E non ci troveremo in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, rega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, rega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, rega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Salva Maria, Mane di Dio, prego, 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 del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta tra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Salve Maria, Mane di Gio, Teo, benvenuto ai cattoli. Adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre corde, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in gelo tutte le armi, specialmente le più fissime nostre terra. Grazie a tutti. Secondo mistero della luce. Le nozze di Cana. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i Suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre gli disse, non hanno più vino. E Gesù rispose, che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi, fate quello che vi dirà. Gesù manifestò la sua gloria e i Suoi discepoli credettero in Lui. Padre nostro, che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Daci oggi il nostro Pagno, che vi dirà, che vi metti a noi, i suoi dati, come noi vi chiamiamo, i nostri evitori, e non ci vede l'elevazione, ma liberaci dal mare. Padre Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amore. Padre Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amore. Padre Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amore. Padre Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen O Gesù, perdona le nostre ore presegnaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le animi specialmente le più vicomacce di Dio Terzo mistero l'annuncio del regno di Dio Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoge predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità e grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea dalla Decapoli e da Gerusalemme dalla Giudea e da oltre il Giordano Padre nostro che se ne cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in gelo così in terra Dacci oggi il nostro Padre con chiamato di me che ad noi come noi ripetiamo i nostri debitori e non ci si burla in tentazione e non ci si muove in tentazione ma in te la città di male Ave Maria piena di grazia il Signore è contento sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori ad esempio in l'ora della nostra donna Ave Maria piena di grazia il Signore è contento sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Quarto mistero, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tavoli. Gesù prese con te Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, la sua veste divenne candida come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, ben che il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in gelo così in terra. La pace è oggi, il nostro Padre, il tuo regno è ineggiare uno ai nostri venti, come noi ripetiamo ai nostri territori, che non ci inudere in tentazione, ma liberaci dal mare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Salva Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Salva Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Salva Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Salva Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Salva Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, terra dei nuovi cattori, adesso e per il nome della nostra morte, amén. Gloria alla Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio ora e sempre, nei secoli dei secoli, amén. O Gesù, perdona le nostre corte, preservaci dal fuoco dei freddi, porti al cielo e a tutte le albe, specialmente del figlio di Sennò, e della comandazione di ricordia. Quinto mistero, Gesù istituisce l'Eucaristia. Quando fu l'ora, prese posto a tavola gli apostoli con lui e disse, Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si combia nel regno di Dio. Padre nostro che se ne cedi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in gelo e così in terra. D'arci oggi il nostro Padre quotidiano, e mi piantiamo ai nostri segreti, come noi che mettiamo ai nostri segreti, e in oggi c'è una benedizione di mani perci dall'uomo. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Salve Maria, Madre di Dio, terra dei nuovi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Salve Maria, Madre di Dio, terra dei nuovi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Salve Maria, Madre di Dio, terra dei nuovi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Salva Maria, Maldi di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Salva Maria, Maldi di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è condetto. Sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è condetto. Sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è condetto. Sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è condetto. Sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è condetto, sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Padre, Dio, prego per noi, Cattore, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come è in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amén. O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva la città del cuore del terreno, porta il cielo a tutte le armi, specialmente la tua misericordia. Sangre, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te riconviamo, Esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di latino. O su dubbio, avvocata nostra, riporgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o Dio, o dolce Regine Maria, Signore, Pietà, Cristo Pietà, Signore, Pietà, Signore, Pietà, Spirito Santo Dio, Spirito Santo Dio, Trinità Santissima, Unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergine, Madre di Dio, Madre di Dio, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre del Salvatore, Madre del Salvatore, Madre per noi, Vergine Prudentissima, Vergine degna di Onore, Vergine degna di Lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, sene della sapienza, causa della nostra ledizia, Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre navidica, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza. Arca dell'alleanza, piano a cieli, stella mandutina, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli affritti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri. Regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace. Prega per noi, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio, prega per noi, Santa Madre di Dio, pregiamo. O Dio è il tuo unico figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e resurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Veda Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, congedici di imitare ciò che essi condengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore, angelo di Dio, che segna il sole, che lunga custodisci, vengi con me, che ti fu raffidato dalla verità celeste, amme. Per i nostri defunti, l'eterno riposo, donna loro, Signore, e splendida essi la luce per il pezzo, riposo e sinistace, amme. Recitiamo insieme la preghiera di San Giuseppe, affinché protegga ciascuno di noi. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua Santissima sposta. De per quel sacro vincolo di carità, che ti strinza l'immacolata Vergine e Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al frangiullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere d'aiuto sottieni ai nostri bisogni. Proteggi, o proprio custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo, Cessa da noi, o Padre amatissimo, cotesta peste gli errori e gli vizi che ammorba il mondo. Ci assisti propizio dal cielo, in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo scambasti alla morte, la minacciata vita del parcoletto Gesù, Così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dagli ostile insidie e da ogni avversità, ed estendi ogni ora, sopra ciascuno di noi, il tuo patrocino, a ciò che è al tuo esempio e mercendo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna piattitudine in cielo e così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Operare in principio, o essere, nei secoli dei secoli, ame. San Giuseppe, regra per noi. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sagratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Baraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima Benedetta la sua santa e immacolata concezione Benedetta la sua gloriosa assunzione Benedetta il nome di Maria Vergine in Padre Benedetto il nome di Maria Vergine in Padre Benedetto San Giuseppe il suo gastissimo sposo benedetto sia il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi resta con noi Signore per la sera resta con noi avremo la pace resta con noi non ci lasciar la notte mai più scenderà resta con noi non ci lasciar per le vie del mondo Signore auguro a tutti una buona notte e rinnovo gli auguri a tutti i papà buona serata grazie grazie grazie